Sì, dunque innanzitutto la parola entanglement in inglese vuol dire intreccio, intreccio vuol dire semplicemente un legame indissolubile tale che due o più particelle che sono legate in questo modo costituiscono un'unica entità, sono due manifestazioni di un'unica entità, perché nel momento in cui noi abbiamo il fenomeno della sincronicità tra elettroni per esempio nella fattispecie, è come se questo ci dicesse che la distanza è un'illusione, che a livello delle particelle la distanza è solo una cosa che appare a noi, apparentemente l'universo è tutto separato, ma poi se lo guardiamo su un altro aspetto, tipo la coscienza dell'universo, in realtà è unito, deve esserlo per forza, perché se no non avremo segnali istantanei, è l'anima dell'universo che è unita e dove tutto è unito. Hanno fatto esperimenti, moltissimi, e ve ne cito uno, perché vi cito quello? Perché quello è assolutamente identico, nella linea di principio, a quello che succede quando si separano le particelle, si fa qualcosa una, anche l'altra reagisce istantaneamente. Lui che cosa ha fatto? Lui ha preso due persone che sono legate da un legame emozionale, può essere due amanti, una madre e un figlio, due amici legati da un legame molto profondo, e ne ha messo uno in una stanza e uno in un'altra, perfettamente isolato l'uno dall'altro, anche a grande distanza, e ha effettuato delle azioni, un gruppo di ricercatori hanno effettuato delle azioni su una e una sola di quelle persone, dopodiché hanno misurato quello che succedeva nel loro cervello con un sistema di risonanza magnetica nucleare. Cosa gli hanno fatto? Una cosa molto semplice, hanno preso un flash, una macchina fotografica, e gliel'hanno proiettato più volte negli occhi. Questo è chiaro e ben conosciuto, lo stimolo da parte del flash ha innescato una reazione nella parte del cervello che è preposta al controllo dell'acquisizione dei dati che vengono dall'occhio, e la risonanza magnetica nucleare ha rilevato una parte del cervello che si era colorata, è normale questo. Ma la cosa strana non è qui, qui è tutto normale. La cosa strana è che in quello esatto istante l'altra persona aveva il cervello che si comportava esattamente nello stesso modo, nello stesso istante, senza che fosse stato stimolato da un flash. Quindi questa è esattamente la stessa cosa che succede quando noi facciamo qualcosa a una particella e l'altra particella, a qualunque distanza che si trova, reagisce istantaneamente, anche se nessuno è andato da lei in particolare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche in questo caso le due coscienze legate da un campo di forma, e ritorno al concetto di campo di forma emozionale sostanzialmente, il potenziale quantico, tutto quello che vi ho detto prima, sono legate da una forma di risonanza che è dimostrabile sperimentalmente. Non è vero che i fenomeni paranormali non esistono, queste sono stupidaggini, i fenomeni cosiddetti paranormali esistono e sono stati dimostrati in laboratorio. Quello che ancora non esiste è un modello fisico in grado di spiegare queste evidenze sperimentali. Si ritiene che alla base di tutto questo ci sia una teoria assolutamente identica della teoria quantistica che governa questi eventi telepatici per esempio, ma che sia una cosa ancora più sofisticata della teoria quantistica normale. Immaginate che possa essere il fratello maggiore della teoria quantistica. La teoria quantistica non è altro che la punta, la cima di un iceberg che è completamente sepolto dal mare. Quello che noi andiamo a verificare con questi fenomeni psichici è la parte dell'iceberg sotto la superficie dell'acqua. Quindi una teoria quantistica quantistica che non solo descriva il mondo delle particelle, ma che descriva anche il fenomeno della vita. Perché è la vita il fenomeno più interessante e complesso in un universo e soprattutto come le ricerche ci dimostrano anche in altri campi, la vita è centrale nell'universo, l'universo è stato creato in funzione della vita e in funzione dell'intelligenza, quella razionale, e in funzione della coscienza che guida tutto quanto, tutto dalla materia.